Siamo quasi alla fine di questo fitto calendario di conferenze internazionali, qual è il primo bilancio che possiamo fare? Io direi che dal punto di vista dei contenuti è un bilancio ottimo, perché tutti sono stati veramente all'altezza delle presentazioni internazionali. La presenza è sempre oscillata attorno ai 50 persone per la concomitanza di manifestazioni, però vedo che tutti quanti sono stati veramente entusiasti e hanno all'Ipsia, la settimana scorsa c'è stata una riunione internazionale e hanno citato queste conferenze come esempio di conferenze da diffondere in tutta Europa.